Salve a tutti, sono Davide Ranalli, il sindaco di Lugo. Lugo è una città vivace, una comunità aperta e solidale. In questi cinque anni ci siamo concentrati sulla riqualificazione del nostro centro storico. Abbiamo portato a termine la ristrutturazione del nostro centralissimo e bellissimo pavaglione, ma non abbiamo lavorato solo sul centro, abbiamo lavorato sulle tante frazioni e sulle nostre periferie. Penso al grande sforzo che abbiamo messo in campo per riqualificare dopo 30 anni il comparto dell'accettificio Venturi. Inoltre abbiamo portato avanti le nostre politiche di un welfare inclusivo, solidale, ma soprattutto universale, che tenesse conto dei nuovi bisogni delle cittadine e dei cittadini delle nostre comunità. Questo l'abbiamo fatto dentro ad un quadro più ampio, non solo quello del nostro comune, delle nostre frazioni, ma dentro all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In questi anni all'interno dell'Unione mi sono occupato di urbanistica, di pianificazione del territorio e di semplificazione. Abbiamo concluso i piani operativi comunali, che sono stati uno strumento importante per fare tanti piccoli investimenti all'interno dei nostri comuni. E poi il nuovo PSC, che ha reso il nostro territorio ancora più sostenibile dal punto di vista ambientale. A questo va aggiunto il grande sforzo di semplificazione messo in campo con la variante al regolamento urbanistico edilizio. Questi cinque anni sono stati cinque anni intensi, ma anche molto belli e molto affascinanti. Cinque anni in cui dentro di me è cresciuto l'orgoglio nei confronti della mia comunità e dell'Unione dei Comuni.